Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre di Gesù e nostra Madre amorevole, a te rivolgiamo la nostra supplica con umiltà. Tu sei il fiore splendente del Monte Carmelo, e la tua presenza porta gioia e speranza. O Madre Immacolata, assistici nelle nostre necessità, guidaci lungo il cammino della fede e dell'amore. Sì la nostra stella nel mare agitato della vita, e mostracci sempre la via verso il tuo divino figlio. Ti preghiamo, Santa Maria, Regina del cielo e della terra, intercedi per noi presso il trono di Dio. Ascolta le nostre preghiere e proteggici dai pericoli, affinché possiamo vivere secondo la sua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Donaci, o Madre di Dio, la grazia di perseverare, di perdonare come tu ci perdoni, e di non cedere alle tentazioni che ci circondano. Concedici la tua protezione e la tua benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricorda di recitarla almeno per sette giorni se vuoi ottenere dei benefici. Che la preghiera quotidiana a Maria, Madre di Gesù, possa portarti conforto, crescita spirituale e protezione. Che tu possa trovare nella sua intercessione una guida sicura e una fonte di sostegno nelle difficoltà della vita. Che la tua relazione con Dio si approfondisca e che la tua fiducia nella protezione divina si rafforzi. Che questa preghiera ti accompagni lungo il tuo cammino spirituale, portandoti pace e benedizioni. Amen. Ci vediamo al prossimo video. Ciao amici ed amiche che Gesù Cristo sia con tutti voi.